Buonasera e bentrovati cari amici e care amiche di tutta salute insieme anche questa settimana per parlare di un tema molto molto importante ovvero come potete vedere dalla nostra fascia il titolo di oggi è memory training esercizi per allenare il cervello a quanti di noi capita di essere distratti smemorati mentalmente affaticati a volte appunto si tratta di stanchezza perché magari abbiamo un sacco di pensieri e la nostra mente va altrove oppure stiamo attraversando un momento particolarmente faticoso e difficile può trattarsi quindi di una parentesi ma può anche essere qualcosa invece di più serio sulla quale vale la pena soffermarsi intanto invecchiare comporta per tutti il cambiamento di alcuni aspetti del nostro stato psicofisico perché perché l'invecchiamento è fisiologico e quindi memoria attenzione concentrazione e linguaggio possono cambiare questi cambiamenti sono osservabili sia nei soggetti sani sia anche in coloro che sviluppano un declino cognitivo lieve oppure malattie più gravi come può essere per esempio l'alzheimer vi do qualche dato la demenza colpisce nel mondo oltre 55 milioni di persone e c'è pensate un nuovo caso ogni tre secondi in Italia si stima che colpisca oltre 1,2 milioni di persone e il 60 per cento di persone che ha appunto forme di demenza ha l'alzheimer e questo numero aumenterà e diventerà 1,6 milioni nel 2030 sicuramente il covid non ha migliorato le cose e ne parleremo anche questa sera con la nostra ospite recentemente la letteratura scientifica ha evidenziato la possibilità di recuperare e potenziare alcune funzioni cognitive anche in età avanzata in che modo? con il training cognitivo è un allenamento della mente che rappresenta proprio un'innovazione nel campo delle terapie contro le demenze intanto è una terapia non farmacologica quindi possiamo dire che non ci sono controindicazioni e il vantaggio appunto è quello di non avere neanche effetti collaterali quindi grazie ad alcuni esercizi si può prevenire o ritardare l'insorgenza delle malattie neurodegenerative e avere un invecchiamento fisiologico sano allora in questa puntata organizzata insieme in collaborazione con l'associazione alzheimer di rimini e ringraziamo fabio bertaccini oggi faremo un po' di questa ginnastica per la mente con la nostra ospite ci è venuta a trovare per la prima volta in studio ma spero non l'ultima la dottoressa francesca mandaletti che è psicologa e si occupa di adulti e anziani in particolare con problemi di memoria e deficit cognitivi benvenuta dottoressa grazie buonasera a tutti e tutte grazie mille per l'invito grazie dottoressa francesca vedete è giovanissima e perché ne parliamo oggi di questo tema perché la dottoressa è la conduttrice dei memory training cioè dei corsi che sono stati organizzati dall'associazione alzheimer di rimini che sono partiti il 7 di novembre e appunto sono condotti proprio dalla nostra dottoressa diciamo anche che i corsi sono organizzati anche in collaborazione con il cd cd che è il centro disturbi cognitivi e demenze e sono finanziati dai fondi regionali della non autosufficienza e si svolgono principalmente su rimini riccione coriano e morciano la dottoressa mandaletti la dottoressa francesca è su rimini allora le chiedo dottoressa a chi sono rivolti questi corsi intanto roberto bianchi il nostro regista che ringraziamo ci fa vedere la locandina del corso di memory training che è partito lunedì vedete dalle 15.15 alle 16.45 in via covignano 238 a rimini dottoressa chi è rivolto questo corso e che cos'è il memory training questi corsi di memory training sono pensati principalmente per delle persone che non hanno un deterioramento cognitivo ma che sono anziani quindi delle persone diciamo anziane in realtà è previsto anche dai 55 anni quindi diciamo non non ancora molto grandi quindi non solo over 65 no in realtà questi corsi sono previsti in generale dai 55 anni e poi con una certa elasticità insomma nelle iscrizioni e sono pensati come dicevo per delle persone che non hanno dei disturbi cognitivi che sono diagnosticati ma che hanno in realtà un desiderio di tenere in allenamento la memoria diciamo che la memoria è come un muscolo quindi più la si tiene in allenamento più la si sforza con degli esercizi specifici mirati pensati appunto da degli psicologi e più questa memoria è in grado di mantenersi attiva, allenata e come dire affrontare l'invecchiamento come diceva insomma precedentemente che è una fase di cambiamento e che avviene insomma per tutte le persone ecco per tutti dammi pure del tu e dottoressa perché anch'io prima o poi ti darò del tu nel corso della puntata non ti preoccupare quindi va bene così allora perfetto quindi abbiamo detto a chi è rivolto diciamo abbiamo detto il corso in via Covignano 238 a Rimini è della sede di Volontà Romagna e il memory training appunto è una serie di esercizi per allenare il decadimento delle funzioni intellettive abbiamo detto utili per gli anziani sani ma anche alle persone con disturbi cognitivi lievi che poi purtroppo spesso rifiutano la riabilitazione in alcuni casi sì diciamo che si può porre una distinzione diciamo il memory training vero e proprio come dicevamo è pensato proprio solo per le persone che non hanno nessuna diagnosi di demenza quindi delle persone che vogliono tenersi attive in allenamento come dicevi giustamente tu poi ci sono anche una serie di altre attività di potenziamento della memoria che sono pensate anche a quelle persone che hanno magari un inizio di demenza quindi una diagnosi iniziale un lieve deterioramento cognitivo e che grazie appunto a questa attività cognitiva questo allenamento della memoria possono andare incontro a un rallentamento dei sintomi quindi a un rallentamento della progressione poi della patologia come funziona dottoressa Francesca la memoria e perché può essere allenata? allora la memoria è un argomento vastissimo e molto complicato sicuramente possiamo immaginare la memoria come una sorta di magazzino e questo magazzino si divide in due sottomagazzini diciamo un primo magazzino è una memoria che si chiama memoria a breve termine quindi è quella memoria che ci permette di ricordare poche informazioni per poco tempo diciamo sui venti secondi quindi è quella memoria che mi serve per che ne so ricordare un numero di telefono che vedo scritto in un foglio nel tempo in cui lo sto digitando scusate sulla cornetta e poi rispondere e fare il numero invece la memoria a lungo termine è un magazzino che contiene le informazioni della nostra vita quindi i ricordi sia ricordi autobiografici quindi che cosa mi è successo nella mia vita non lo so il mio primo giorno di scuola, il giorno del matrimonio eccetera eccetera sia anche conoscenze che ho sul mondo per esempio che Roma è la capitale d'Italia quindi delle informazioni che ho imparato, che ho appreso durante la mia vita anche se non mi ricordo poi quando me le sono ricordate e me le sono imparate insomma e poi contiene anche tutta quella serie di procedure, di cose, di sequenze, di azioni, di movimenti che io ho imparato per esempio banalmente guidare oppure passaggi per fare una ricetta non so per fare il ragù e quindi queste sono le informazioni contenute nella nostra memoria una cosa fondamentale che viene poco diciamo sottolineata, riferita alla memoria è anche la capacità di come dire dimenticare cioè la nostra memoria seleziona una serie di informazioni che ha senso ricordare e quindi tra le informazioni che io ho sotto gli occhi tutti i giorni grazie alle mie capacità di attenzione che mi fanno concentrare su qualcosa piuttosto che su qualcos'altro grazie alle mie capacità di memoria escludo delle cose dalla mia memoria e altre si mantengono per esempio immagino che tornando a casa non ti ricorderai come sono vestita finché campi insomma a un certo punto sono informazioni che ti dimenticherai perché non sono rilevanti che tendiamo a escludere diciamo il superfluo perché non ce lo dobbiamo ricordare ecco però dottoressa a volte ci capita invece di scordarci delle cose importanti non si tratta più di essere smemorati no come dicevo all'inizio ma proprio di cominciare a perdere dei pezzetti e allora lì ci si comincia a preoccupare ecco quando è che diciamo suona il campanello d'allarme e magari fa propendere la persona per un controllo per andare a vedere insomma che cosa sta succedendo andare a fare una visita quando è che ci si deve accendere la lampadina e dire ok devo andare a fare un controllo a noi personalmente o alle persone che stanno vicino alle persone che insomma hanno questo tipo di disturbo sicuramente uno dei campanelli d'allarme è la frequenza di queste dimenticanze cioè se io una volta ho una tantum e mi dimentico dove ho messo le chiavi della macchina non è di per sé preoccupante proprio perché è una situazione che può succedere a tutti sarà sicuramente successo a tutti se questa cosa però succede spesso nel tempo e anche in diverse situazioni quindi non soltanto in situazioni dove io sono magari stressata oppure non lo so sto portando le busse della spesa sono al telefono non trovo le chiavi della macchina è una situazione contingente che ci è capitata diverso è se capita anche in situazioni come dire normali un altro campanello d'allarme che può far pensare sia una persona che ha questi sintomi che i cari che le sono vicini può essere un cambiamento nel comportamento quindi quando una persona cambia radicalmente il suo modo di fare e i comportamenti che ha nella vita di tutti i giorni oppure ecco dottoressa chiedo magari anche la persona chiede non so alla sua mamma o al suo papà che giorno è oggi e non sanno rispondere non sanno più collocarsi anche temporalmente potrebbe essere anche questo un campanello d'allarme oppure quando ti sei sposato quanti anni hai cioè queste domande più banali no no è vero è vero sicuramente questa difficoltà di orientamento sia nel tempo come dicevi tu quindi che giorno siamo che giorno ti sei sposato eccetera eccetera che nello spazio quindi ritrovare la strada di casa anche queste vanno contestualizzate cioè se in un periodo di vacanza io non mi ricordo se siamo mercoledì o martedì non è una difficoltà da porre sotto l'accento sotto lo sguardo di un medico sicuramente però delle informazioni importanti come possono essere la data del proprio compleanno la data del compleanno del proprio coniuge e se non vengono ricordate possono essere quello c'è chi non se ne ricorda mai nemmeno 30 anni hai ragione infatti bisogna vedere come una persona poi si è comportata nella vita nell'arco della vita esatto se uno non l'ha mai saputo chiaramente non è un campanello d'allarme ecco allora proprio su questo dottoressa visto che tu ti occupi di questo da diverso tempo e poi fai questi corsi da tempo e con diverse persone ecco quali sono diciamo le situazioni più classiche di fronte alle quali ti trovi con i tuoi allievi diciamo cos'è la cosa che ricorre di più? come errori, come difficoltà sì come difficoltà sicuramente spesso le persone hanno difficoltà nel ricordarsi i nomi delle persone che io lo dico sempre anche ai corsi è una delle cose più difficili che ci sono nel senso che io mi sono presentata mi sono detto mi chiamo Francesca ma se avessi detto mi chiamo Sara o Margherita sarebbe stato lo stesso perché il nome non ci dà informazioni circa la persona che lo porta certo quindi una delle difficoltà che più ritrovo è questa altre difficoltà che hanno le persone magari dicono che delle volte parlando non gli vengono le parole è una di quelle cose che sicuramente avremmo sperimentato anche noi magari anche qui per porre la situazione sotto un consulto del medico bisogna vedere poi la frequenza se una tantum non mi viene una parola o se continuamente poi altre difficoltà che si possono avere nell'imparare i numeri di telefono perché anche queste sono una sequenza diciamo di numeri che non dicono niente quindi può essere difficile insomma tenerli a mente certo quindi queste diciamo sono le situazioni più frequenti di fronte alle quali ti trovi però appunto ci sono delle tecniche per ricordarsi per ricordarsi le cose allora e tu fai fare proprio degli esercizi questo lo dico adesso a mio rischio e pericolo vogliamo fare qualche esercizio dottoressa cioè nel senso adesso la dottoressa fa fare a me un paio di esercizi che fa fare al corso al training e vediamo un po' vediamo un po' come va vai dottoressa vediamo un po' giusto per insomma per dimostrare che sono degli esercizi a parte che sono pensati però sicuramente sono degli esercizi che mettono come dire in allenamento qualsiasi tipo di memoria anche una memoria di persone giovani come puoi essere tu insomma quindi per giustificare grazie andrà bene andrà bene vediamo un po' un primo esercizio che ho pensato di portarti è un esercizio nel quale ti leggerò un elenco di numeri di cifre e ti chiederò di ripeterle prima queste cifre saranno più brevi e poi via via i numeri aumenteranno ok e questa è la foto del mio cervello in questo momento grazie Roberto andiamo pure partiamo sono pronta appena finisco di dirteli tu me li puoi subito ripetere ok va bene va bene ci sono vado sì 2 2 2 6 3 2 6 3 5 9 6 4 5 9 6 4 9 8 5 6 2 9 8 5 6 2 1 9 5 5 5 8 4 1 9 5 5 8 4 6 9 7 2 5 6 8 6 9 7 2 5 6 8 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12 13 13 14 14 Procedo con uno un po' più difficile di sequenze di numeri Ok Vado 3 9 5 2 4 5 3 1 3 9 5 2 4 5 3 1 Ne aggiungo ancora uno 5 7 4 3 4 6 2 9 5 5 7 4 3 9 6 2 9 5 Ho sbagliato 4 6 Va bene 4 6 2 9 5 Perfetto Comunque Va benissimo Perché Come dicevo prima La nostra memoria a breve termine Può contenere un numero limitato di informazioni Il numero calcolato diciamo sarebbe 7 più o meno 2 Quindi 7 possono essere da 5 diciamo a 9 Questa era 9 Quindi tu te ne sei ricordate 8 Quindi è perfettamente Sei perfettamente in salute E questa è andata E questa è andata Procedo con un altro esercizio Proviamo con un altro esercizio Senza numero Devo dire che ho sempre odiato i numeri Dottoressa Quindi quando io vedo qualcosa con i numeri E non so perché C'è proprio lo sbarramento Beh sicuramente vuol dire Vuol dire Direi di sì Andiamo proviamo Proviamo Con un altro esercizio Adesso ti provo a leggere un elenco di parole Un elenco di parole casuale Poi te lo rileggerò una seconda volta E in questo elenco aggiungo due parole Ok Extra che non avevo detto la prima volta Ti chiedo di individuarle Di dirmi quali sono queste parole Che non avevo detto nella prima lettura dell'elenco Ok quindi prima non c'erano E poi ci sono E poi ci sono Mi devi dire quali sono Sì Ti leggo il primo elenco Casa Telefono Bambino Sedia Calzini Giornale Camino Te lo rileggo con l'aggiunta di due parole Sì Casa Telefono Bambino Automobile Sedia Calzini Candela Giornale Camino Automobile E candela Perfetto Non c'erano Non c'erano Bravissima Quindi anche questo Cioè cercare di ricordare delle parole ripetute E capire quando ne sono state aggiunte altre Praticamente il succo è tenere in memoria questa serie di parole Per un breve tempo Insomma io vedi che te ne leggo uno dopo l'altro Quindi poi a un certo punto te ne dimenticherai queste parole E cercare di trovare quali sono quelle che sono state aggiunte Ecco comunque gli esercizi sono su Principalmente su numeri e parole O ci sono anche non so immagini Ci sono anche esercizi sotto forma di immagine Sicuramente ci sono anche dei giochi di parole Gli esercizi sono molto vari Io poi cerco anche a parte una serie di esercizi insomma standard Ma cerco anche di ascoltare molto le persone nel gruppo Quindi se ci sono persone che hanno delle preferenze Delle esigenze Che amano particolarmente un certo tipo di esercizio Io sicuramente poi do una serie di esercizi Anche seguendo le loro preferenze Soprattutto magari nei compiti Perché lascio qualche compito a casa Ah ci sono anche da fare i compiti a casa Lascio sempre dei compiti Ovviamente in base agli impegni di ciascuno Per carità Ecco allora i compiti a casa A proposito di compiti a casa Ne avevi un altro? Ne avevo un altro Ah vai con un altro e poi dopo continuiamo la chiacchierata Vai fino in fondo voglio vedere Voglio vedere fino in fondo Se ce la faccio Questo è più un esercizio che ha a che fare solo con le parole E ti chiedo di trovare delle parole di sei lettere Che comincino con la sillaba PA Con la sillaba PA? PA P-A Solo sei lettere? Solo sei lettere Questo è difficile Eh beh sì Questo è difficile Sì ovviamente noi qua abbiamo poco tempo Sicuramente un consiglio per cercarle È provare a partire da parole che iniziano chiaramente con PA PA-PA vero ma non ha sei lettere PA-PA vero Troppe Sono troppe E PA Per esempio parola Parola Ne ha sei Ecco E un consiglio è partire con quelle Poi dopo sicuramente questa tipologia di esercizio Si può fare sia a tempo Cioè chiedo alle persone in due minuti In cinque minuti In tot minuti Di trovare una serie di parole che hanno questo iniziale E che siano lunghe Un tot di lettere Oppure può essere fatto anche non a tempo Magari ad arrivare a non so 15 parole Che hanno questo iniziale Questa lunghezza eccetera eccetera Però Questo è più difficile Il livello di difficoltà un pochino più alto Nei gruppi arrivano a trovarne anche 30-40 Sono bravi eh Ah sono molto bravi Sono bravi Io non ne ho trovata neanche una Quindi insomma Parola perché me l'hai detto tu Comunque dicevi Nella vita quotidiana Fuori dal corso Come possiamo allenarci A appunto Tenere allenata A fare ginnastica Con la memoria Non so Fare liste della spesa Oppure Mi raccomando fare liste Anche di altre cose Oppure mi dicevi Avevi detto I giochi di parole I cruciverba Ecco queste sono cose Che noi possiamo fare Normalmente Per tenere in allenamento Il cervello Sicuramente sì Qualsiasi cosa Che sia stimolante Per la mente E che segua un po' Le caratteristiche Di ciascuna persona Perché Non ha senso Fare degli esercizi Che poi Siano visti Come un obbligo Perché poi Non ci sarebbe la motivazione Insomma le persone Non avrebbero voglia Di farli Però Qualsiasi cosa Che va a stimolare La mente Come possono essere Dei cruciverba Oppure anche La lettura di un libro Ma anche Stare in mezzo alle persone Quindi dialogare Scambiare opinioni Banalmente Per una persona Appassionata di calcio Può essere anche Andare a vedere la partita Insieme ad altre persone Perché Stimola sia Lo scambio Di informazioni Di punti di vista Con gli altri Ma anche La socializzazione Stare tra altre persone Ecco E in questo Dottoressa Quando dicevo all'inizio Che il covid Non ha certo Migliorato le cose E anche per questo Perché Per una persona Con questo tipo Di problemi Anche lievi È stato un problema Ci sono stati due anni Molto difficili Sì Stare in casa Sicuramente Isolati Non aiuta Perché Uno dei fattori Insomma Protettivi Sia per lo sviluppo Di patologie Come possono essere La demenza Ma anche Che possa Come dire Aiutare A tenere la mente Di una persona Che ha già Una diagnosi Di demenza Più stimolata È proprio La socializzazione Stare in mezzo Ad altre persone Quindi Condividere con gli altri Esperienze Vissuti Ma anche Banalmente Parlare Scambiare due parole Con qualcuno Con qualcuno Che non sia Magari Proprio coniuge Perché poi Giustamente Con il proprio Coniuge Con chi vive in casa Con noi Magari Si è già detto Un po' tutto Invece con altre persone Si stimola Lo scambio Ecco Infatti L'abbiamo imparato Proprio in questi In questi anni Cosa significa No? Proprio stare insieme Socializzare Insomma Avere un rapporto umano Empatico Con gli altri Può far star bene Anche solo quello Si Sicuramente si Sia per le persone Che hanno delle patologie Ripeto Sia per chi non le ha Anche per noi Insomma Per tutti Penso che sia Certo Qualcosa di positivo Allora Questa è una domanda Che ti faccio Sui social O sull'uso del telefono In generale Ecco Può essere stimolante Per la memoria E positivo Avere Un cellulare Diciamo In mano E farlo funzionare Ecco Adesso ci sono tanti anziani Che comunque Sono alle prese Con gli smartphone Qualcuno si è iscritto Sui vari social network E quindi magari Tiene anche Dei 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 rapporti No? Con gli amici virtuali Ecco Questo è Un bene O un male Detta proprio così Cioè Può Aiuta o peggiora Un certo tipo Di situazione cognitiva Questo è Diciamo Un parere personale Però mutuato Anche dalle conoscenze Specifiche Che ho In questo ambito Credo che Come in tutte le cose Ci siano i pro E i contro Quindi ci sia Un aspetto positivo Delle tecnologie Che può essere Quello di mettere Sia in comunicazione Diverse persone Pensiamo Anche durante Il lockdown Le persone che erano lontane Gli anziani Che sapevano usare Il cellulare Si sono trovati Anche avvantaggiati Per parlare con i nipoti Per parlare con i figli Eccetera eccetera Certo Sia perché Io ho a che fare Anche con diversi anziani Che usano delle app Per tenere in allenamento La memoria Quindi Insomma Delle app O di sudoku Di parole crociate Ma anche Proprio pensate Da psicologi Per stimolare La memoria D'altro canto Però È vero Che Insomma Un utilizzo smodato Di qualsiasi cosa Tra cui anche La tecnologia Possa non essere Non essere sempre Come dire Favorevole Cioè se una persona Rimane Semplicemente Attaccata al computer Per diverse ore al giorno Senza Avere scambi Con nessun altro Sicuramente Non è Non è Positivo Per gli anziani Però Che non conoscono La tecnologia E che vogliono Approcciarsi Alla tecnologia O che comunque Vogliono Approfondire La tecnologia Studiarla Avere Magari Imparare Delle competenze In più Può essere Solo che positivo Sì È comunque Una forma Di allenamento Di stimolazione Della mente E allora Qualche consiglio Dottoressa Per proseguire Questi esercizi Anche a casa Nella vita quotidiana Anche chi Non riesce A venire al corso Perché poi Lo diremo I posti Sono esauriti Ma Ce ne saranno Altri Poi la dottoressa Ci dirà Anche Un po' I tempi E noi Intanto Chiediamo Come possiamo Fare Insomma A fare Questi esercizi Quotidianamente Al di fuori Insomma Della sua Guida Ecco Sicuramente Fare qualcosa Che ci piace Fare Delle attività Nella vita quotidiana Che tengano La nostra mente Come dire Sveglia Stimolata Che ci permettano Come dicevo prima Sia di parlare Con le altre persone Ma anche Di leggere qualcosa Di tenerci informati Anche sicuramente Fare degli esercizi Pensati Per la memoria Per esempio La settimana enigmistica Insomma Delle altre Delle Degli esercizi Che vengono Pensati Proprio Per allenare La mente Però allo stesso tempo Come dicevo anche prima È importante Che queste cose Vengano fatte Perché ci piace Farle Non tanto Come dire Per obbligo Per dovere Ecco C'è qualcuno Che arriva Dottoressa Al corso Che ne so Il primo giorno Pensando Vabbè Ma tanto Non mi ricorderò Mai niente Come prima No E invece poi Alla fine Dei corsi Sono dieci Sono dieci lezioni Dieci incontri Ecco Alla fine Dal decimo incontro Dice Sono migliorato Perché poi C'è anche la questione Del miglioramento Dell'umore Ma anche Dell'autostima Perché tante volte Una persona Si sente sola In questo suo Essere Smemorato Diciamo così Magari pensa Sto perdendo i pezzi Piano piano Mi sto ammalando Non mi ricordo più niente Non sono più come prima E invece poi È proprio il confronto Con gli altri In un corso Con altre 15 persone In cui più o meno Vengono fuori Le stesse difficoltà Ecco Non migliora solo L'umore Ma anche L'autostima Quindi c'è qualcuno Che al decimo giorno Di corso Dice Sono proprio contento Perché Ho imparato No E sono poi fondamentalmente Uguali agli altri Sì Sicuramente succede Ma succede spesso Che le persone Prima di tutto Conoscano meglio Il funzionamento Della propria mente Quindi della memoria Dell'attenzione Delle varie funzioni cognitive E quindi Conoscerle Ci rende più consapevoli E consapevoli Soprattutto Nei momenti in cui Ci sono delle defiance Riconoscere se queste defiance Sono più o meno preoccupanti Questo è anche Uno degli obiettivi del corso E anche stare in mezzo A altre persone Che condividono Un'esperienza simile Alla propria È sicuramente Da un lato arricchente Ma anche Sostiene le persone Sostiene l'autostima Delle persone E le fa sentire Meno sole I corsi Dottoressa Li possono fare anche I cosiddetti Care giver Cioè persone Che assistono Diciamo Propri I propri familiari Per esempio Con l'alzheimer O con la demenza Va bene anche Per queste persone qui Certo Oppure No questi corsi Di memory training Sono per persone Che non hanno una diagnosi Quindi capita spesso Che magari Dei caregiver Per prevenzione Partecipino a questi corsi Quindi che abbiano Come dire Desiderio Di tenersi attivi Tenersi in allenamento Proprio perché Hanno avuto Un'esperienza di vita Che li ha portati Molto vicino Alla malattia Alla sofferenza Che poi Giustamente Una malattia del genere Porta tutto il nucleo familiare E malattia del genere Sulla quale insomma Si sta ancora Studiando tanto Non si stanno trovando Ancora Farmaci E dicevamo all'inizio Che questo Ecco è Sicuramente Non è Non è una soluzione Ma è Un allenamento Che può appunto Aiutare Senza effetti collaterali No A tenere in allenamento Forse il muscolo più importante Che abbiamo Del nostro organismo La memoria La memoria La memoria La memoria È vero È vero Sicuramente sì Insomma Lei che lo ha studiato E che fa questi corsi Insomma Lo sa bene E lo sanno bene Anche le persone Che a questi corsi vengono Corsi dicevamo Frequentatissimi Tanto che Ne partiranno altri Perché questo Che è iniziato a novembre Finisce a gennaio Ecco Corso di memory training Questo è quello Organizzato Come abbiamo detto Dall'associazione Alzheimer Rimini Con la dottoressa Francesca Mandaletti Ma ne partiranno degli altri Vero dottoressa A gennaio Alla fine di questo corso Quindi verso la fine di gennaio Ne partirà successivamente Un altro Sempre nello stesso posto Con gli stessi orari E poi insomma Vi consiglio di tenere Guardata Di tenere sott'occhio La pagina facebook Il sito dell'associazione Alzheimer Rimini In modo tale Da avere aggiornamenti Anche più precisi A ridosso di questa data Eccoci qua Infatti il nostro Roberto Bianchi Ci fa vedere I contatti Dell'associazione Alzheimer Rimini Via Covignano 238 Che è la sede Il numero di telefono 0541 28142 E poi c'è anche la mail Per avere informazioni Che è Info Chiocciola Alzheimer Rimini Punto Net Ecco Dottoressa Le chiedo anche In chiusura Se c'è qualcuno Di particolarmente preoccupato Che viene ai corsi Ma è troppo Preoccupato Rispetto alle problematiche Della memoria Dici Può capitare Diciamo Però mi sono Forse è stato anche un caso Che sia capitato così Però mi sono sempre Capitate delle persone Consapevoli Delle difficoltà Di memoria Che possono avere O che potrebbero avere Nel futuro E sicuramente Se ci sono persone Molto preoccupate Il mio obiettivo È anche rassicurarle Nel senso che Qualche defaianza Come abbiamo visto Capita a tutti Ed è normale Che succeda Le difficoltà Ci sono Quando queste defaianze Sono Come dire Ripetute nel tempo Però Bisogna anche Normalizzare Diciamo Delle difficoltà Che ciascuno di noi Ha quotidianamente Sicuramente Spesso Mi trovo A parlare Con degli anziani Che vivono In un mondo Molto frenetico E quindi Il fatto che Ci siano Tante cose Da ricordare Tante cose Da fare A velocità Non aiuta Delle persone Che stanno Affrontando Un invecchiamento Pensiamo anche Soltanto al numero Di password Che ci viene richiesto Di ricordare Attualmente È sfidante Per tutti Diciamo Non soltanto Per delle persone Anziane Decisamente È proprio vero Allora Ricapitolando Possiamo dire Socializzare Stare insieme Agli altri Il più possibile Allenare la mente Facendo Questi giochi Di logica Sudoku Oppure Cruciverba Che ci stimolano A pensare A tirare fuori Dal cassetto Quella parola Che sapevamo Anche stare lì Del tempo Per farlo Non è che deve Arrivare tutto Così Con uno schiocco Di dita Prendersi il tempo E insomma Farsi arrivare Queste cose Che sappiamo Di avere Nella memoria E insomma Cercare di stimolarle E poi Che altri consigli Fare qualcosa Che ci piace Cercare Di fare delle cose Che siano in linea Anche con il nostro carattere Con la nostra personalità Anche L'attività sportiva L'attività fisica Ovviamente Ovviamente Aiuta E allora La voglio sorprendere Dottoressa Guardi un po' 2, 3, 5, 9, 7, 8 Giusto? No Non può essere giusto Perché mi sto inventando Dicevo Oh mio Dio Non mi ricordo Quello che ho scritto Io stessa A dottoressa Abbiamo terminato il tempo E la ringrazio molto Dottoressa Allora Ricordatevi i corsi E ricordatevi Dell'associazione Alzheimer Rimini Ecco Grazie Roberto Bianchi Ce la fa vedere Per l'ultima volta Dottoressa Francesca Mandaletti Che poi l'ultima volta Non è l'ultima volta Perché poi sapete Che non lo dico mai Ma potete vedere Tutte le puntate Di tutta salute Anche sulla piattaforma Icaroplay.it Dove trovate Tutti i nostri contenuti Li potete vedere Quando volete Come volete E dove volete E quindi Anche questa puntata La ritroverete lì E potete vederla Rivederla Condividere Insomma Fare tutto quello Che volete Le auguro Un buon lavoro Dottoressa Perché è davvero È davvero importante Così come sono importanti Questi corsi E la aspetto di nuovo Qui a tutta salute Grazie Grazie mille per l'opportunità E buona serata a tutti Grazie a voi E vi do appuntamento Alla prossima settimana Mi raccomando Nel frattempo Abbiate cura di voi Grazie a tutti